In tanti anni trascorsi al seguito dei più diversi e importanti eventi sportivi a livello nazionale e internazionale non mi è mai capitato di sentirmi veramente e profondamente a disagio. Mai se non una volta, una notte del 1985 a Bruxelles, la famosa notte dell'Eisel, nella finale della Coppa dei Campioni, allora si chiamava ancora così, tra la Juventus di Michel Platini ed il Liverpool. Vi ricorderete sicuramente quella tragica circostanza che determinò la morte di 39 tifosi italiani, tutti asseragliati nel famigerato settore Z del vecchio stadio della capitale belga, dove avvenne, in seguito alla carica di un gruppo di tifosi britannici, dove avvenne il cedimento, il crollo di un muro di sostegno. Quindi morirono calpestati, travolti dai compagni che cercavano disperatamente una via di fuga, morirono soffocati. Alla fine furono allineati tutti davanti allo stadio, quei 39 cataveri che ancora oggi sono un monito che ci riporta al periodo nero della storia del calcio. Un periodo in cui paradossalmente la più grave tragedia non avvenne però in seguito ad una particolare sequenza di violenza, bensì purtroppo per una tragica fatalità. Ero allo stadio quella sera con il collega Giuseppe Albertini, che ci avrebbe lasciati poi purtroppo tre anni dopo, nel 1988, durante i campionati europei di Germania, e con due amici. Io non lavoravo, avevo l'abitudine, allora giovane e appassionatissimo di calcio, di investire il mio tempo di vacanze, il mio tempo libero, insomma per andare al seguito delle più importanti partite a livello internazionale, con Albertini, con Colotti, con Ostinelli. Ero con Peppi, così affettuosamente lo chiamavano tutti i colleghi, seduto nella postazione dell'allora TSI, una fila sopra la posizione di Bruno Pizzoli, un altro caro collega, il telecronista, che tutti sicuramente ricorderete, della RAI, la televisione di Stato italiana. Ebbene, la tensione montò molto velocemente, dopo quel lungo momento di attesa che doveva precedere, nelle intenzioni degli organizzatori, dei responsabili della sicurezza e dell'evento, la grande partita, che sarebbe stata arbitrata dallo svizzero André Daina. Vi ricorderete anche questo. Daina che a modo suo fu un protagonista perché la finale, se così la possiamo definire, fu decisa da un rigore in favore della Juventus, decretato proprio dal direttore di gara elvetico. Ebbene, a un certo punto successe il finimondo. Dalle gradinate dello stadio si cercò rifugio, molti cercarono rifugio sul tappeto erboso. Poi arrivò la polizia a cavallo. Ho delle immagini confuse, lo confesso, di quei momenti. Soltanto una flash mi torna alla mente in modo estremamente vivido. Il tifoso italiano, con un impermeabile chiaro, lo rivedo benissimo, che riesce ad aggrapparsi alla postazione di Bruno Pizzul e gli grida addosso. Li stanno massacrando. Tutto questo finisce relativamente in fretta. Poi si torna ad una situazione di surreale normalità con i miei due amici, Rolando ed Edo, che invece che nel settore Z, dove avrebbero rischiato di morire, riuscirono in qualche modo, era un calcio un po' meno controllato di quello odierno, riuscirono in qualche modo ad infilarsi con Albertini e con chi vi parla nel settore stampa. Giuseppe Albertini, uomo di grande sensibilità, di grande umanità, in quella frangente andò contro una regola riconosciuta del giornalismo ed usò per così dire il mezzo pubblico per lanciare messaggi privati. Ricordo benissimo che si rivolse ai familiari di Alfredo e di Rolando, oltre che ai miei, dicendo che noi stavamo bene. Pensate un po', pensate un po' la carica emotiva che doveva aver colpito anche una collega della sua età, Albertini era già una persona parecchio anziana a quell'epoca, e della sua esperienza. Poi la partita, la partita che in fondo non merita neppure di essere ricordata, quella coppa sporca di sangue che fu vinta dalla Juventus, che fu portata in Italia. Da allora ci furono moltissime polemiche sulla legittimità di quel successo, di quella stessa esibizione, ma non è il caso, a distanza di tanti anni, di tornare sugli episodi. Purtroppo il calcio ha lasciato quella pagina nera, anzi rossa di sangue, scritta in modo indelebile nel suo lungo romanzo. Ricordo ancora, dopo la fine della gara, il ritorno allo stadio con i tre più giovani ad accompagnare una Giuseppe Albertini visibilmente turbato, visibilmente scosso sino all'albergo, in una Bruxelles che era precipitata in un'atmosfera di tragico silenzio. Non c'era un tifoso inglese nelle strade, non c'era un tifoso italiano, tutto si era bloccato prima che la partita, la partita di calcio, iniziasse. Da allora non ho mai più assistito sino al 2013, pensate, ad una finale di Coppa dei Campioni o di Champions League, come nel frattempo era stato ribattezzato il trofeo. Nel 2013 fu invitato nel nuovo stadio di Wembley per assistere alla partita tra il Bayern di Monaco e il Borussia di Dortmund, credo, non ricordo. So che portai mia moglie proprio per alleggerire la pressione, per alleggerire la sensazione di ritorno sul luogo che non avrei mai voluto ritrovare, anche se non geograficamente, perché era a Londra, non era a Bruxelles, ma era la stessa situazione. Quindi ci sono voluti 28 anni per tornare a vedere una finale, per tornare a seguire dal vivo una finale di Coppa dei Campioni, perché per me si chiama ancora così. Non lo so, è un ricordo che mi porto dentro, forse in questa serie di racconti questo che sto terminando sarà l'unico veramente triste, ma l'unico proprio per questo che credo non riuscirò mai a dimenticare. Alla prossima!